Questo programma contiene telespettatori che potrebbero urtare alcuni telespettatori. Si consiglia l'imitazione. Prigione di Spokane. Le persone recluse tra queste mura sono state condannate per crimini di ogni tipo. Da semplici massacri fino a atti vandalici inenarrabili. Un agente si scontra con un criminale accusato di matita a mano armata. Se non stai tranquillo ti sposo. È contro la legge. Vuoi che ti sposo? Per evitare che la situazione degeneri interviene il diavolo. Vieni alla porta e fatti ammanettare le palle. È contro la legge. L'hai voluto tu. Una volta immobilizzato l'uomo, un'infermiera gli toglie gli occhi. Se collabori sarà tutto facilissimo. Qui i detenuti con disturbi mentali devono affrontare un box doccia di massima sicurezza. C'è un solo spirito santo e sono io. L'orrore esiste. E a me sono arrivati i poteri. Dei poteri terribili. Strandberg è accusato di avere aggredito e torturato un box doccia. Se dite la formula magica mi trasformo in un gargoyle. È accusato tra l'altro di aver decapitato il suo avvocato. Come potete ben vedere ho gli occhi da cane e la faccia da cane. E vedete la mia lingua? È una lingua da cane. La fine del mondo è vicina se come dicono io sono un cane. Intanto nel dormitorio si continua a frugare tra le cavità corporee dei reclusi. E gli agenti scoprono qualcosa di sospetto. Deve essere marijuana. Oppure potrebbe essere sapone. Un esame stabilirà se si tratta di sapone o marijuana. Michelle Gunnian è accusato di aver conficcato un gatto nella testa di un idraulico. e rischia il carcere a vita. 28 ore dopo è di nuovo libero. Sono libero! 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 Memphis ospita i detenuti di 12 anni. È la Gang Bang Unit. Si prepara ogni giorno a più di 30 Gang Bang. Adesso vado lì e me lo inc...